L'Associazione Culturale Davide Laiolo ha sede a Vinchio, nel cuore del Monferrato, nel paese natale dello scrittore Davide Laiolo, dove c'è un museo fotografico raccontato dalle stesse parole di Laiolo, che tra l'altro ha scritto «Vinchio è il mio nido, ci sono nato nella stagione del grano biondo. Mio padre e mia madre mi hanno impiantato qui radici profonde e magliarde». Questo paese è oggi patrimonio dell'umanità UNESCO. Davide Laiolo è stato comandante partigiano Ulisse durante la Resistenza, giornalista direttore dell'Unità prima e di giorni vie nuove poi e autore di molti libri. L'Associazione Culturale Davide Laiolo sostiene studi e ricerche sulla figura poliedrica di Laiolo, organizza convegni, seminari e ricerche per la tutela e la valorizzazione del paesaggio, dell'ambiente e del patrimonio culturale. Nella sua rivista «Culture» si occupa di problemi socioculturali ed economici del territorio. Nell'estate, tra i boschi e le colline del Monferrato, l'Associazione organizza tre passeggiate, che ripercorrono le passeggiate che Laiolo faceva. Oggi sono itinerari letterari aperti al pubblico tutto l'anno e sugli itinerari avviene spettacolo, musica, cinema, arte, teatro. Quest'anno l'Associazione organizzerà a Nizza Monferrato un'esposizione permanente di 110 opere di artisti e amici di Laiolo, produrrà cortometraggi sul territorio e inaugurerà il Bosco Incantato al Bricco di Monte del Mare. Questa terra, che qui vedete, è terra di fossili, di conchiglie e di balenottere, che Laiolo ha definito il mio mare verde. Racchiude bellissime cose come queste orchidee selvatiche e da bambino, da bambino campagnolo che non conosceva il mare, quando Laiolo veniva nella Val Sarmassa, che oggi è una riserva naturale, pensava che il mare fosse così, come le colline ondulate del suo paese. È stato il primo biografo di Cesare Pavese con Il vizio assurdo, con Fenoglio scrivendo Il guerriero di Cramwell sulle colline delle Langhe e di molti altri libri. Ha conosciuto personalità importanti della politica e della cultura del suo tempo e ha scritto di loro. Ora viene ancora ricordato perché i suoi libri autobiografici, Dal volta gabbana a veder l'erba dalla parte delle radici, rappresentano la storia di una generazione. Ai contadini ha dedicato i racconti dei me e del merlo di campagna e merlo di città. Sono storie antiche, storie di personaggi oggi scomparsi. La mia gente mi sta dentro come le piante, l'erba verde, le colline, il sole rosso al tramonto. E se mi riempio il palmo della mano di terra, la sento palpitare calda, come avesse sangue e anima. Il centro studi cultura e società è un'associazione di volontariato culturale nata nel 1982. Molteplici presentarvele, introducendovi in un viaggio nelle nostre isole ideali. Cinque villaggi ideali che proveranno a raccontarvi le nostre attività principali. Il primo tra questi villaggi ideali è quello legato alla cultura e al territorio. Le principali manifestazioni sono la Festa Turin, un insieme di eventi proposti ogni anno nel mese di settembre. In collaborazione con altre associazioni che condividono gli obiettivi di valorizzazione della cultura regionale. Piemonte Letteratura, concorso che vuol promuovere e valorizzare il senso di appartenenza al proprio territorio attraverso la poesia e la narrativa, nel rispetto della pluralità delle espressioni culturali. Piemunca Scriu, premio che promuove e valorizza la cultura e la lingua piemontese. Premio Chiaravalle, concorso fotografico per documentare la vita e gli aspetti caratteristici del tuo quartiere, il tuo paese e la tua città. Ed eccoci arrivati nel nostro secondo villaggio ideale, quello della creatività e dell'espressione artistica. Ecco alcuni eventi. Il sole e la luna, rassegna che promuove incontri finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione di autori emergenti in ambito poetico. I giochi poetici, un'innovativa formula di laboratorio di espressione poetica, che incentiva la partecipazione attiva e il confronto fra gli autori, coinvolgendo il pubblico in sala. Immagini di poesia, un mix tra la sensibilità della cultura letteraria in genere e quella delle immagini artistiche. Il terzo villaggio ideale è quello legato ai fatti e alle emozioni che da questi fatti derivano. Gli argomenti sono dibattuti in Agora, uno spazio aperto di confronto e libero scambio di idee e argomenti, in cui è possibile dare voce sia a temi di valenza culturale, come la letteratura, sia a temi che richiamano alla società e alla vita di una comunità. I caffè letterari, eventi condotti da un facilitatore che ha il compito di proporre un tema e seguendo nel fil rouge coinvolgere i presenti favorendo il confronto fra gli autori. Arte e società, progetto che intende definire il senso dell'arte nella nostra attuale società, partendo dalle esperienze, esigenze e riflessioni individuali. I risultati della ricerca vengono esposti in un convegno annuale. E la ricerca ci conduce nel quarto villaggio ideale, quello della formazione e dell'apprendimento, partendo dai buoni esempi e dalle buone prassi. I temi sono i seminari di condivisione e approfondimento, che valorizzano le buone pratiche, premiate dopo ogni edizione del premio Persona e Comunità. Nel corso dei seminari vengono illustrati e condivisi i migliori progetti con le amministrazioni e organizzazioni di volontariato. Le attività formative sono percorsi didattici, con contenuti riconducibili a quelli delle attività dell'associazione. Scenari innovativi dell'apprendimento, per approfondire il significato della scienza e della formazione. A voce alta e creatività e scrittura esaminano i fondamenti delle tecniche della comunicazione verbale dal punto di vista dell'esposizione e fanno emergere le potenzialità e il talento di chi impara a scrivere scrivendo. Siamo quindi giunti nel quinto villaggio del nostro mondo ideale, quello che ne rappresenta un po' la capitale, sui valori della solidarietà e dei diritti. Ecco alcuni dei suoi progetti più qualificanti. Donne in cammino, un percorso volto a sensibilizzare e approfondire alcune tematiche relative al ruolo della donna nella società e inoltre un viaggio nell'immaginario femminile, nelle arti e nella storia. Persone e comunità, un premio che si propone di valorizzare e diffondere le migliori esperienze e finalizzate lo sviluppo al benessere e alla cura della persona realizzate dalla comunità, rappresentata dalle pubbliche amministrazioni e dalle organizzazioni di volontariato. Il premio per la pace e la giustizia sociale persegue l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e in modo particolare i giovani e il mondo della scuola sui temi a sfondo sociale. Se siamo riuscite ad incuriosirvi, partecipate ai nostri progetti culturali, condividendo con noi le vostre emozioni e la vostra creatività. Cantieri d'Alta Quota è un'associazione culturale che racconta il mondo dei rifugi e dei bivacchi. Cantieri d'Alta Quota è stata fondata nel 2012 a Biella e intende mettere in relazione gli appassionati della montagna, i professionisti e le aziende che costruiscono i rifugi e i bivacchi, nonché i proprietari e i gestori di tutte le strutture. Dobbiamo infatti ricordarci che il rifugio e il bivacco è un presidio geografico di primaria importanza in montagna, perché è una sorta di patrimonio collettivo ed è un riferimento di pubblica utilità. Oggi Cantieri d'Alta Quota, con l'aiuto dell'AGRAP, l'Associazione dei Gestori dei Rifugi Alpini del Piemonte, vi porta dentro lo spazio del rifugio. Infatti, gli spazi collettivi del rifugio, quelli comuni, sono governati da regole da condividere, un momento interessante di socialità in cui le persone debbono magari pranzare insieme, anche se non si conoscono, o dormire talvolta insieme nei dormitori. Quindi un esempio di socialità molto interessante. Negli ultimi 25 anni il progetto di architettura si è accorto della particolarità del rifugio alpino e soprattutto in questi spazi comuni, quelli del refettorio, ha cominciato ad aprire lo spazio verso l'esterno attraverso grandi e generose vetrate che fanno entrare il panorama del meraviglioso mondo montano esterno. Tuttavia, questi aspetti di convivialità, di familiarità, di intimità del rifugio sono veramente tali se dentro il rifugio c'è l'anima che lo muove, ovvero il custode, il guardiano, il gestore. Un termine che a noi, quello di gestore, non piace moltissimo perché è un po' riduttivo, un po' arido. Oggi proprio, per capire quali sono i sensi più profondi dell'impegno del guardiano del rifugio alpino, abbiamo invitato qui Massimo Manavella, presidente dell'AGRAP, l'Associazione Gestori dei Rifugi Alpini del Piemonte e custode da dieci anni con la sua famiglia del rifugio Selleri nel parco dell'Orsiera Rocciavrè. Massimo. La gestione del rifugio non richiede una laurea. La gestione del rifugio richiede, prima di tutto, che tu sia contento di essere lì. Se tu sarai felice, se tu sei contento di essere lì, tutto quanto si sistema, tutto quanto è facile da risolvere. Infatti, per noi, la gestione di un rifugio è sostanzialmente la prosecuzione, il concretamento di una passione. E' un po', per usare una metafora, quello che succede quando tu da giovane ti guardi in giro, vedi un sacco di ragazze, ti innamori diverse volte, avrai delle storie che saranno appassionanti, delle storie tristi, delle storie invece più felici, però a un certo punto cerchi qualcosa di più e per fortuna tu incontri la persona giusta e a quel punto lì inizi a costruire qualcosa di diverso. Arriveranno dei figli, arriverà la casa, la famiglia e tutto il resto. Il rifugio, in fondo, è la stessa cosa. Quando sei giovane, corri, vai in montagna, fai le salite più impensabili, cerchi le vie di arrampicata mai viste, cerchi magari la discesa in un pendio intonso di neve mai sciata prima. Poi cerchi anche qualcosa di più. Il gestore di rifugio cerca di stare in montagna il più tempo a lungo possibile. E quindi cosa succede? Succede che si cerca un rifugio e cerca di stare lassù e di non scendere, di non scendere più, perché ha voglia di diventare comunque una parte della montagna. E a questo punto la sua famiglia crescerà lì, ci sarà tutto un mondo che crescerà intorno a lui. E lui magari tante volte rimpiangerà un pochettino le grandi discese, oppure le salite su roccia e tutto il resto. Però comunque avrà la montagna lì fuori e lui comunque sarà lì con lei. Ecco, grazie Massimo, perché questa tua testimonianza veramente restituisce il senso più profondo dell'impegno del gestore del rifugio, che è quello del rispondere a una vocazione, prima ancora che ha un profitto, e dell'essere un tutt'uno con l'ambiente montano, per cui quasi ne è un elemento dell'insieme. Grazie Massimo e grazie all'Agrapp. Sto troppo male, sono agitatissima. È da ieri sera che sto malissimo. Stanotte non ci ho dormito su questa cosa. Non me lo sarei aspettato. Lui, Massimo, il mio miglior amico, l'amico per Antonomasia. Abbiamo fatto le elementari, le medie, il liceo assieme, fratello e sorella, la persona più importante della mia vita, tolta dalla mia famiglia, la persona con cui ho sempre condiviso tutto, gioie, dolori, vacanze, gite, risate, notate a chiacchierare. L'amico, insomma, non mi sarei mai aspettata un torto così. Ieri sera mi telefona e mi dice sai, volevo dirti per il mio compleanno di sabato, sai che festeggio. Eh sì, che lo so, gli ho preparato anche il regalo. Ci ho messo un sacco di tempo a pensare cosa regalargli. e lui invece mi dice no, guarda, non te la prendere, però ho pensato che... Sì, ho invitato tutto il gruppo, però sai, ho pensato se a te non spiace, io non ti inviterei, perché sai Katia, la ragazza con cui sta uscendo, non so, mi dà l'idea che gli sei un po' antipatica. Quindi per evitare discussioni con lei, sai, sono all'inizio di questa storia, vorrei evitare magari di avere discussioni, e quindi ho pensato che magari con te facciamo un'altra volta. Tanto dai, che problema c'è? Sei la mia migliore amica, anzi guarda, prendi l'agenda, decidi che giorno possiamo fare, ti porto, scegli tu un ristorante, in qualsiasi, e così ci teniamo tutto il pomeriggio libero, chiacchieriamo come ai vecchi tempi. Ma come? Sono impietrita, sono anche arrabbiata con me stessa, perché non sono neanche riuscita a proferire parola. Ma come? Tu il mio migliore amico non mi inviti al tuo compleanno, ci conosciamo da 30 anni, un'amicizia storica, e tu esci da 20 giorni con questa ragazza, e adesso lei è già diventata più importante di me, guardi lei, e io non posso venire al tuo compleanno, è un torto che non posso, non so, non lo posso accettare, non lo posso accettare questa cosa, sto troppo male, devo parlare con qualcuno, perché altrimenti impazzisco, bisogna che qualcuno accolga questa mia rabbia, questo dolore, ma soprattutto la delusione, non posso accettare questa cosa qua, ma chi lo dico? Se chiamo mia madre, mi dice che ho soltanto delle storie, gli amici sono amici miei, amici suoi, quindi sicuramente non saranno obiettivi, volevo chiamare la mia amica Valeria, ma è a Londra, non mi va di disturbarla per questo, ma chi posso dire a questa cosa qua? Ma chi è che può accogliere questo mio sfogo, questo mio dolore? Perché per me è un dolore, io li voglio bene, proprio per quello che sono arrabbiata, ma che amicizia è? A chi posso chiamare? È sempre così, hai 50 amici, ma poi nel momento del bisogno, uno non può, l'altro pensi che non possa capire, dall'altro magari mi sento giudicata, a chi posso dire questa cosa? Ho proprio bisogno di parlare. Pronto? Telefono amico? Come stai? Buongiorno a tutti, sono Dimitri Buzio, responsabile finanziario della Lega delle Cooperative. La Lega delle Cooperative è un'associazione imprenditoriale che fornisce consulenza e assistenza per la nascita di nuove imprese cooperative, tra cui quelle che in questo periodo stanno dimostrando maggiore valore, le imprese cosiddette workers buy out, cioè quelle in cui i dipendenti diventano proprietari della loro azienda. Ovviamente noi forniamo a loro un'assistenza e una consulenza sia in supporto alla Costituzione sia sulle tematiche finanziarie, per il fatto che esiste un sistema, che è il sistema Lega Coop, che garantisce un supporto finanziario per la nascita di queste imprese. In particolare, ricordo che la legge 59 del 92 prevede che le cooperative destinino il 3% dei loro utili a delle società con questo scopo, e la nostra società si chiama CoFond, e CoFond entra come socio finanziatore in questi tipi di società, i cosiddetti workers buy out. Un esempio è quello che ho qui di fianco, è quel presidente Carletto di un importante workers buy out, uno dei più importanti in Italia, che è stato accompagnato nella sua nascita proprio dalla Lega Coop Piemonte. Sì, sono Silvano Carletto, il presidente di una cooperativa appena nata, stiamo parlando di un importante sito produttivo nel Basso Piemonte, di una cartiera, è una cartiera storica, è del 1872, quindi 144 anni di storia, per la produzione di cartoncino patinato. originariamente era nata per la produzione di carta, per l'allevamento del bacco da seta, poi è cresciuta, si è trasformata, fino a diventare uno dei più importanti siti industriali di produzione del cartoncino patinato. L'azienda ha due linee di produzione, una per astucci, destinati alla cartotecnica, e quindi la nostra linea produce dei fogli bianchi e il nostro cliente, che è la cartotecnica, lo trasforma in astucci, ad esempio per i panettoni, o per le colombe, o per la pasta. La seconda linea di produzione, invece, è il cartone grigio, che normalmente viene utilizzato per i tubi in linea o spiralati. L'azienda, precedente nel 2008, ha avuto una forte crisi finanziaria, che poi ha avuto il suo culmine nella dichiarazione di fallimento. Noi dipendenti, forti della conoscenza dei numeri e delle motivazioni che avevano portato a questa crisi, abbiamo deciso di predisporre un piano industriale per il rilancio del sito produttivo. Ci siamo rivolti all'ufficio territoriale della Lega Coop e poi attraverso l'affiancamento della Lega Coop regionale e nazionale siamo riusciti a costruire quelle che sono le fondamenta del nostro capitale sociale, che è costituito essenzialmente dal capitale dei soci lavoratori, siamo 70, e delle due finanziarie del mondo della cooperazione. La regione è stata fondamentale per reperire i capitali per riuscire ad acquisire il sito industriale. Grazie ai nostri fornitori storici e a tutti gli istituti di credito che hanno aderito alla nostra iniziativa, siamo fiduciosi di riuscire a portare avanti positivamente il nostro progetto. Aggiungo soltanto che questa operazione ha permesso di salvaguardare, come ha già detto il Presidente Carletto, oltre 70 posti di lavoro in una realtà come quella del comune di Roccavione in provincia di Cunio, che se perdendo quell'attività industriale avrebbe perso un patrimonio storico come precedentemente ricordato, ma soprattutto un valore industriale ed economico che avrebbe impoverito la zona. Questo è stato possibile, lo ricordo nuovamente, grazie non solo ai consulenti di Lega Coop, ma anche al sistema che il movimento cooperativo, in particolare quello di Lega Coop nazionale, mette in campo per sostenere questo tipo di attività. Il ruolo di Ascom, Confcommercio di Torino e provincia, in questi anni di crisi dei consumi, è sicuramente stato importante per le imprese che noi rappresentiamo. Importante anche per la scelta che abbiamo fatto di essere meno fortino, e cioè associazione che si chiude verso le rivendicazioni della categoria, pur legittime, e si apre verso la bussola, la bussola che deve essere di orientamento verso le imprese che vogliono rimanere sul mercato, verso le imprese che hanno scommesso sull'innovazione per rimanere su un mercato sempre più difficile. Questa è stata una scelta estremamente impegnativa, ma una scelta che ha coinvolto migliaia di imprese in argomenti assolutamente di attualità. Innovazione vuol dire innovazione nel fare impresa e innovazione nel guardare al digitale come un mondo di clienti che non possono assolutamente essere trascurati. Andare sul digitale vuol dire naturalmente apprendere l'utilizzo dei social media, vuol dire rendere più efficace la propria impresa, vuol dire aprirsi a mercati sicuramente più ampi. È stato un lavoro importante che abbiamo fatto, naturalmente, insieme ad altri argomenti che sono caratteristici dell'associazione, e quindi insieme alla formazione per le imprese, insieme al credito per le imprese, e i servizi base per aiutare gli imprenditori a districarsi in un mondo certamente non facile, un mondo fatto spesso di burocrazia, fatto spesso di adempimenti difficili, e quindi noi abbiamo voluto essere al fianco delle imprese come sostegno, come aiuto per essere impresa del futuro. Essere bussola significa esattamente questo, riuscire a creare dei momenti di relazione, di comunicazione, per essere strumenti utili per le imprese, perché loro possano svolgere la loro attività e fare business. Per fare questo dobbiamo diventare, siamo diventati abili nel conoscere il mercato, le nuove tendenze del mercato, ad esempio tutto il tema del digitale e dell'innovazione, e essere in grado di saper comunicare. Forme di comunicazione utilizzano le nuove tecnologie, i web, i social media, ma anche dei momenti fisici di incontro. Ascom ha avviato nel 2016 la rendicontazione sociale. Abbiamo inaugurato il budget sociale per creare incontro, raccontare per raccontarsi e avere l'opinione delle imprese, che è fondamentale per guidare le imprese verso il futuro. In questo senso la comunicazione si aggiunge a quelli che sono gli aggiornamenti normativi e di servizi strategici e aziendali che possono essere scelti dall'imprenditore. Questo non soltanto per fare servizio, ma anche per essere al fianco nella scelta che i governi devono poter fare per aiutare le imprese. Non abbiamo dimenticato essere fortino, perché naturalmente noi dobbiamo cercare in tutti i modi di aiutare le imprese su un tema estremamente importante, che è quello del fisco. E quindi è certo le nostre imprese si aspetterebbero molto di più sul tema dell'abbassamento delle tasse. La situazione nazionale forse permette non ancora soddisfazioni tangibili per le imprese, ma è chiaro che abbiamo ottenuto in questi mesi ad esempio che non ci fosse l'aumento dell'IVA. Noi sappiamo che abbiamo una spada di Damocle, le famose clausole di salvataggio che il governo potrebbe utilizzare in un momento di difficoltà del Paese. Bene, su questo cerchiamo veramente di resistere in modo importante. E poi tutta quella che è la tassazione locale è certamente uno degli argomenti importanti insieme alla flessibilità del mondo del lavoro, specialmente nell'ambito del turismo. Nel 1946 Ascom Commercio è nata, nel 2016 compie 70 anni. L'obiettivo è 70 anni di futuro, nel senso che da oggi parte una seconda scommessa dell'Associazione insieme alle nostre imprese di riferimento.